Oh, magicolo, magicolo, hai visto, hai visto? Zebo89 ha guadagnato, anzi, gli è stato donato 1500 euro in una live facendo niente. Allora, vi dirò io quello che penso di Zebo89 e della sua... Io non guardo le live di Zebo89 e non capisco come si possa fare una live di quattro ore giocando a un giochino e non capisco come si faccia a guardarlo per quattro ore e poi non capisco ancora come si fa a donare soldi. Oddio, ma c'è chi mi ha detto, no, ma questi soldi li doveva donare a qualcuno che ha fatto qualcosa o ai poveri, queste cose qua, ma ognuno dona i soldi a chi vuole, sono soldi appunto. E non ho niente da dire riguardo a queste cose, non mi interessa. Cioè, io i soldi li guadagno facendo qualcosa. È troppo facile, è troppo facile farsi donare i soldi così, anche perché lui ha detto, ma io non mi aspettavo tutti questi soldi, ma è già tanto che ti aspetti un euro non facendo niente, tu guadagni i soldi dalla pubblicità. Cosa vuoi di più? Perché devi mettere questa cosa? Che faccerà, che adesso farà una live ogni domenica? Non me ne può fregare di meno, non le guarderò comunque, visto che giocare a videogiochi così è una perdita di tempo già farlo se non vai in un torneo, quindi, ma farlo proprio così in una live, guardare è una cosa assurda, visto che non mi dà niente di più. Lui non è un pro gamer, lui non sa giocare, io posso guardare Sterni che vince in un gioco FPS, ma non posso guardare Zebo89 che cerca di far ridere, ma a me non capisco come è possibile che abbiano soldi da donare, quindi non riesco proprio a capire e non mi interessa però, non mi interessa. Non mi interessa.